Nemici a ore 2, in alto! Eccoli, eccoli! Non devono colpire i bombardieri, all'attacco! Un altro gruppo a ore 9, solo che non ci sono! Spira, hai un gruppo alle costole! Spira, spira, spira! Spira, spira, spira! Eccone uno, il suo roccetto! Oppure, è bravo! Si! L'hai colpito! Eliminato! Un altro gruppo di ronda! Ha colpito dalla sinistra! Un altro gruppo! Un altro gruppo! Un altro gruppo! Non ci vedo! Assessi! Da davanti! E' con carico! E' un altro gruppo! Un altro gruppo! Del profuscorso abbiamo concauto la pusoliera! Ma sono ancora in Buca! Muovi il culo! Ne hai un alle spie発! Via da lì! Ci provo... E' troppo vicina! Mayday! 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 Occhio, altra cota aerea! Ho parlato troppo presto! Subiamo danni! Tutti i sistemi in avalia! Solpiti! Motore sinistro fuori uso! Il timore di sinistra è bloccato! Perdiamo quota! Spazio aereo libero! 16 chilometri al bersaglio! Ecco che tornano! Dietro di noi! Pala colpi presto! Stai aereo libero di dosso! Stai aereo libero di dosso! Stai aereo libero! Motore dalleggiato! Westbatter da lì ti sta addosso! E' uno in coda! A sinistra! A sinistra! Pira! Dentra! 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 A sinistra! A sinistra! Siamo stati disfessi quei bombardieri! Metteremo molto ragazzi! Muovi il culo! E hai una leguata? Precipitiamo! Precipitiamo! Ripeto! Precipitiamo! Mettiti! Abbiamo perso d'altro! Camera! Camera! Ti hanno portato un palla nel separato lì bloccato! A sinistra! 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 Stupiamo danni! Tutti i sistemi in avaria! Non possiamo perdere altri compagniere! A prestiti! A prestiti! Ecco che arriva! Hai un nemico dietro di te! A prestiti! Vabbè! Merda! Sono ferito! Ho la gamba macciullata! Hai un nemico o tre sei! Perfetto! Non è più! Non è più! Non è più! Non è più! Allora, non è più! Eccone! Eccone un via! Vai in giocco alle costole! Occhio! È bravo! Siamo quasi allo solo del taglio. Facciamo spazio ai bombardieri. Bocche cucite e informazione con me. Comando, qui 509. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. La nona divisione corazzata è impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Rover Joe! Rover Joe! Qui Duckwood White 5! Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo? In arrivo Duckwood White 5. 80 chilometri di distanza. Passo. Andiamoci da qui! Forza! Veloci! Dobbiamo tornare a fronte! Indietro! Via! 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 Sono dietro di noi! Indietro! Tutto è qui! Arrivo al supporto aereo! Non duriamo molto! Resistiamo ancora un po'! Voglio qualcuno alla mitragliatrice! Brianna! Tornare! Addosso! Non andare da fuori! È anche qui! two beganco siリ comfy! Non fatevi avvicinare ai gatti! 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 ями avvicinare ai gatti! Non fatevi avvicinare ai gatti! Non fatevi avvicinare ai gatti! No, no, no! informazione genituro genituro crocchi attività nemica davanti il medico teniamo d'occhio quegli alberi da questa parte io i crocchi torneranno presto movimenti tra gli alberi mezzi pesanti ci servono altri cani armati sono uscite allo scoperto si tenersi pronti ok No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Ecco i nostri B-47! Giù! No, 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 no! Ne minus, no, 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 no! Grazie mille.